Stiamo filmando per il censorino teatino l'arrivo a Chieti della bara dell'ex sindaco di Chieti, Nicola Cucullo, che figurativamente ha fatto l'ultima passeggiata per il corso. Ecco il carro funebre che si avvicina alla sede della provincia dove sarà allestita al secondo piano la camera dove la città e i cittadini, il popolo teatino potrà venire a dare l'ultimo saluto all'ex sindaco Nicola Cucullo. La bara sta uscendo, ecco la bara che contiene il sindaco Nicola Cucullo, le spoglie mortali. Nicola Cucullo è stato per 11 lunghi anni sindaco della città di Chieti dopo Tangentopoli, dopo il dissesto finanziario e ha rimesso a posto i conti della città e ridato una nuova dignità a Chieti. La città, molti cittadini sono qui, scusate anche la commozione nel commentare a questo episodio. La città, molti cittadini sono venuti a rendere omaggio a Nicolino, a Don Nicola, come veniva chiamato comunemente dal popolo e la bara verrà posta nella camera mortuaria che ci sarà al secondo piano del palazzo della provincia. ecco il sindaco Umberto Di Primio, la famiglia, sono gli amici di sempre del sindaco ma anche tanti cittadini comuni. Adesso gli operatori della pompa funebre stanno con la bara, un grande saluto, un grande applauso per il sindaco che sta prendendo la via della Camera del Consiglio Provinciale dove i cittadini potranno salire a renderli omaggio. Due ali di polla accompagnano noi. Con il sindaco di tutti i giorni. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.